Si inaugura a Sansepolcro un nuovo spazio espositivo, una mostra permanente delle opere di Franco Alessandrini. Questo è uno spazio dove ospiterà varie collezioni mie, personali e di altri collezionisti privati. È uno spazio dove si succederanno altre mostre, oltre che le mie altri artisti avranno occasione di esporre in questi spazi ed è no profit, non è una galleria normale, è una galleria senza interessi. E dovrebbe diventare anche un ritrovo per gli artisti di tutti i generi, non solo dei pittori e scultori ma anche di musicisti, poeti eccetera. Lo spazio è in Via Giunti, 126, quindi nel cuore pulsante della città. Adesso cosa possiamo trovare in esposizione? Adesso abbiamo una collezione di quadri fatti in vari periodi, dagli anni 70 fino ad oggi, sugli sbandieratori, i valestrieri e altri soggetti del settembre pitturgenze. La mostra ripropone anche lo studio sulla battaglia di Anghiari, già visto in mostra proprio ad Anghiari, in occasione della mostra dell'artigianato. La battaglia di Anghiari è la stessa mostra che io ho fatto a Anghiari, dove ero stato invitato a disporre questi disegni e queste opere. Adesso la stessa mostra l'ho trasportata, l'ho fatta qui in questa galleria e sarà in mostra per un mesetto circa.